Ah, bella la vita, eh Mirko? Ti stai buttando troppo nel lavoro tu? Faccio altro pensare a quest'udienza e... Adesso facciamo una bella visita alla tua mamma, eh? È proprio necessario, ho detto che sto bene. Arrivano prima le convulsioni, poi l'arresto respiratorio. È chiaro? Dobbiamo metterlo in terapia intensiva. Avevi ragione tu, purtroppo. Non sembra una caduta per le scale. Come si chiama? Si chiama Mirko. Mi assumo i rischi e mi prendo anche la responsabilità. Nati ieri, giovedì alle 21. Che te da fai? Di soggiata, cioè? Un giorno ho coletto la crema, un giorno ho coletto il cioccolto.